allora oggi facciamo qualcosa di leggero di fresco di fresco sale un po' di olio un po' tanto ma sempre olio buono grasso buono balsamico di modena olive insomma va nel sale a fare un casino ho già messo del mais, pomodoro, carottine alla julienne sempre musica sottofondo oggi siamo leggeri perché tra poco vado al campo a tirare questo non manca mai bitter oh cavolo vado a bere un po' di insalata con questo piattino tutto fresco niente è caldo un po' di limone va e va e butta giù non va finita è rimasta ancora e voilà allora buon appetito a tutti eh ciao ciao Grazie a tutti.